ADIENSO POSO DI ZED VASILAMUKRAN ZURGEN CEPZINO كنا نزichen موضوعنا اليوم هو العائلة Ma ne sono state attivate quella cosa che ci siano C'è un po' il primo Oggi è stato un po' di più Un po' di più è il primo Un po' di più Un po' di più Un po' di più Il suo scoge è riporto Il suo scoge è riporto Il suo scoge è riporto Il pietro! Lì dallele l'asem, dallele l'bozzil, ciao per la prossima!